È stata disposta al Comune di Favara la disinfestazione dei locali dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino. La scuola, diretta dal dirigente scolastico Maria Todaro, rimarrà chiusa da oggi, giovedì e sino a sabato, 24 novembre. Le lezioni riprenderanno regolarmente a lunedì. Il provvedimento, disposto dal sindaco Rosario Manganella e dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Rosetta Monreale, è stato chiesto dal dirigente scolastico Todaro a seguito del presunto caso di infezione da meningite batterica che avrebbe interessato un alunno della scuola. L'istanza di intervento è stata trasmessa anche ai competenti uffici dell'azienda sanitaria provinciale. La presunta infezione aveva provocato allarmismi in città, preoccupazioni espresse anche dai genitori degli alunni e dal personale della scuola. A rassicurare tutti, comunque, secondo quanto si legge in una nota del Comune di Favara, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Asp di Agrigento, dottor Gaetano Geraci. Quest'ultimo, secondo quanto precisato dagli amministratori, parla di basso rischio infezione.